Siamo al Partenio Lombardi, qui tra poco arriveranno i calciatori perché alle tre e mezza c'è allenamento, ripresa in vista della sfida di domenica contro il Taranto di Eziolino Capuano. Come sapete sarà una partita importante, fondamentale, che dovrà cancellare il dispiacere dell'eliminazione dalla Coppa, ma anche fare il bis con la vittoria esterna contro il Benevento. Anche questa settimana, ma ormai non fa più notizia, Michele Pazienza dovrà inventarsi qualcosa. Fondamentalmente perché a questo Avellino mancherà la fantasia, mancherà Russo, mancherà Varela e mancherà Sgarbi. Bisognerà fare di necessità virtù e ad allora quale potrebbe essere la chiave? Sostituire la fantasia con l'estrema concretezza e dunque partire ad esempio da una difesa che si è riscoperta granitica. Al di là del gol incassato solo nei supplementari contro la Lucchese in Coppa Italia, nei 90 minuti l'Avellino è risultato ancora imbattuto. E bisognerà, come detto, ricominciare dalla forza che abbiamo lì dietro e dai recuperi. Rigione e Cionec sembrano non essere in discussione, mentre qualcosina Pazienza potrà inventarsi sulla destra, dove c'è un ballottaggio tra Cancellotti e Benedetti. Quest'ultimo però ha giocato in Coppa e ha giocato tanto, anche bene, in Coppa, quindi è piuttosto probabile che Cancellotti torni in difesa. Se mai dovesse accadere questo e allora a centrocampo, a destra, verrebbe confermato Manuel Ricciardi, a sinistra Fabio Tito, mentre a centrocampo Palmiero sembrerebbe essere in pole, così come Sonni D'Angelo. Sonni D'Angelo ha ben figurato nella sfida a Benevento, per cui potrebbe essere riconfermato. Ovviamente poi c'è Marco Armellino. In avanti, scelte quasi obbligate. Marconi ha giocato in Coppa, per cui la coppia dovrebbe essere quella formata tra Gori e Patierno. Gori deve ritrovare il gol, Patierno deve confermarsi. In questo momento lui è passato un po' dalle critiche estreme all'esaltazione estrema, come spesso capita qui ad Avellino. Deve ritrovare ovviamente la sua strada e dare una soddisfazione al tecnico. domenica arriverà Capuano, arriverà Canutè, tutti ex con il dente avvelenato, ma ovviamente bisognerà ristabilire quella che un tempo si chiamava la legge del Partenio, far sentire il calore della Sud, Sud che come sapete purtroppo a ritorno contro la Juve Stabbia non ci sarà per i noti fatti decretati dal giudice sportivo.